Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana, sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata a causa di lavori tra San Casciano Nord e Impuneta in direzione Firenze. Fino all'8 dicembre a causa di una frana avvenuta al km 79-865 della FIPILI, chiuso il tratto al km 0 della Provinciale 224 di Marina di Pisa. Sempre a causa di movimenti franosi sulla statale 12 della Betone del Brennero, chiuso il tratto in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano, mentre sulla statale 64 Porrettana chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina in prossimità del confine con l'Emilia Romagna. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!